Hanno preso avvio venerdì mattina i lavori di ripristino del corpo stradale in corrispondenza della frana che nei giorni scorsi ha interessato una piazzola di emergenza lungo la E45 all'altezza di Pieve Santo Stefano. Ad annunciarlo è stata ANAS. Le operazioni riguardano in questa prima fase l'alleggerimento del corpo di frana tramite la rimozione del terreno franato e la successiva regimazione idraulica superficiale per garantire così il corretto deflusso delle acque. La piazzola era già stata in precedenza interdetta alla circolazione in quanto il personale tecnico aveva rilevato un primo segnale di dissesto. Lo scorso sabato inoltre il personale ANAS aveva provveduto a chiudere la piazzola in modo definitivo. Il transito attualmente in direzione nord è consentito sulla corsia di sorpasso. Questa infrastruttura preoccupa molto ancora? Non lo so se preoccupa molto. So che una delle infrastrutture di collegamento importante è soggetta ad un grosso investimento di ANAS. Ricordo che lì era prevista un'autostrada che aveva un valore di 10 miliardi. Ora siamo passati a un intervento in capo ad ANAS di poco più di un miliardo che prevede manutenzione, messa in sicurezza e velocizzazione. Lo ripeto, una volta che avremo l'asse completo Fano Grosseto, con l'E45 che punta verso nord, questo diventa un quadrante importantissimo. Intanto la polemica corre anche sui social. Questa foto scattata tra Pieve Santo Stefano Sud e Pieve Santo Stefano Nord risalirebbe al 2011. Sarebbe stata pubblicata sul gruppo Vergogna E45 dagli automobilisti e ritrarrebbe proprio la piazzola frannata. La foto in questione sarebbe già sul tavolo del procuratore. Inoltre la procura di Arezzo avrebbe già aperto un fascicolo. Probabilmente lì è stata fatta un'opera fatta male e con il tempo si paga le conseguenze. Devo dire che le opere pubbliche bisogna farle bene, bisogna controllare perché le imprese lavorino bene, perché poi i guai si vedono nel tempo. È meglio spendere qualcosa di più, ma farle bene e non vedere questo scempio annuale che si ripete ogni anno. È una superstrada importantissima perché collega il centro con il nord-est, però è in una situazione impossibile, l'ho amata troppo tempo direi.